oggi amore avresti compiuto gli anni e oggi è il giorno in cui si affollano come non mai i ricordi di una vita a cominciare proprio da quel 3 settembre di 55 anni or sono quando pochi giorni dopo essersi conosciuti abbiamo scoperto di volerci bene quando a san guido in un freddo pomeriggio ci siamo scambiati il primo bacio e poi come si usava allora ci siamo fidanzati ufficialmente godendoci gli ultimi giorni di estate di quell'indimenticabile 1961 tra i monti di gualdo il corso di foligno e le circostanti località collinari montefalco trevi e spello poveri in canna hai accettato un annellino di fidanzamento di poco prezzo ma di molto valore per te e un peluche dopo gigio il pupazzo creato da maria perego un pupazzo come noi e un anno dopo proprio il 3 settembre volemmo festeggiare il nostro primo anniversario passeggiando mano nella mano per le vie di bologna poi in mezzo abbiamo messo una bella scampagnata in prossimità delle sponde del fiume Reno con un paesaggio pieno di scorci di straordinaria bellezza pur con le ferite inferte dal tratto autostradale bologna firenze appena inaugurato con le ferite infertale bologna firenze appena o Oggi, 3 settembre 2016, avresti compiuto e festeggiato 82 anni con me, insieme con i nostri figli e i nostri nipoti. Ciao Ivelina, ti vogliamo bene! Grazie per la visione!